Buongiorno Beni, questa è la tua colazione dei campioni Ci stiamo dirigendo al Petswork Ti trovo sulla sinistra, eccoci, arrivati Stai parcheggiando Gianni? Sì Renzo, sto parcheggiando a Berlino, imprecando Renzo Buongiorno 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 Sì, guarda che cosa hai lasciato nel piatto, che ho lasciato? Oh, non mangio. Dai, mangi. Ma le due piatto scosse non ci vanno. Non rispetti le conture? No, perché non mi ci vanno. Non mangi, lasci proprio citrioline della spreva. Ciao, Gianne. Ciao, Renzo. Abbiamo fatto il concerto, Gian? Sì, che bello. Come è andato, Gianne? Ti li hai spettinati. E adesso che stiamo facendo, Gianne? Ci ingozziamo di noccioline, Renzo. Cosa provocano le noccioline, Gianne? Cosa? Provocano le noccioline? Il problema sarà per Veni e Cito, che soffrono un po' di meteorismo. Il buco nell'ozono. Eh, domani sarà un lungo viaggio. Buongiorno, Gianne. Buongiorno, Renzo. Hai dormito? No. Hai assaggiato il latte di cocco? Sì, fa vomitare. Veni, dove stiamo andando? A lì. A lì. A lì. Famosa per? Per le ostiche? No. Miliardi e miliardi di conifere. Mille tiri. No. Quindi è... Ho adesso 3. 3. Questa cosa è meglio di Cito. Tutto rotto. 20, 20, 60. Nederland. Belgio. Calais. Hai. Hai. No. 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 Quella è un passaggio. London. London. Tomorrow.